Un saluto a clienti di Eskamoshop, in questo video vi dimostriamo un asciugacapelli, un asciugacapelli necessari e sufficienti per poterlo portare magari nei vostri weekend, magari fuori quando andate in vacanza, portarlo in palestra, allora vediamo la confezione all'interno che cosa ci dà, vediamo che tiriamo fuori il fono, ecco qui esce anche un piccolo libretto delle istruzioni, ma effettivamente capire come funziona il fono non è effettivamente difficile, allora proviamo a tirare fuori il fono dalla plastica, allora vediamo che il fono si presenta in questo modo, ecco qui, sulla parte superiore del fono c'è scritto Sarker che sarebbe proprio la marca del fono, il fono ha diverse velocità, ha un cavo lungo 1,5 metri, 1,5 metri, con questo attacco vicino, ecco quindi praticamente dovrete acquistare un riduttore, oppure ecco se già lo possedete il riduttore, ecco tanto di guadagnato, ecco effettivamente, con questo cavo qui viene inserito all'interno della corrente e l'asciugacapelli inizia a funzionare, vediamo che questa parte dell'asciugacapelli è smontabile, ecco questa parte qui in pratica che dovrebbe darvi un flusso d'aria, potete gestirlo anche voi come meglio credete, mettendo, ecco girando questa parte ecco del fono, potete anche staccarla dal fono e avere in pratica un flusso d'aria, un flusso d'aria ecco più, come dire, più leggermente più forte con la direzione dell'aria, tende ad allargarsi al posto ecco di essere contenuta come questo adattatore. Allora proviamo a mettere in funzione il fono e vediamo che cosa succede, allora apriamo il cavo, diciamo che è un prodotto sigillato, quindi ecco a tutti i sigilli del produttore, ecco qui. una volta messo in corrente il fono, ecco proviamo ad accenderlo e vediamo che il fono, si spostiamo la levetta, tutta quanta a sinistra, il fono a una velocità, ecco qui. Ricordiamo a tutti che il fono riproduce un'aria calda, ecco non riproduce aria fredda, quindi ecco non è possibile asciugare i capelli con l'aria fredda, ecco usa soltanto l'aria calda. Allora dicevamo che se spostiamo tutto a sinistra, il fono a questa velocità. Se il tasto viene spostato verso il centro, il fono smette di funzionare, mentre invece se lo spostiamo tutto quanto a sa a destra, quindi ecco abbiamo visto che il fono ha una doppia velocità, ecco una leggermente più debole, l'altra invece molto più forte. È un fono che funziona a corrente, ecco a 220 volt, abbiamo visto che il cavo è lungo circa un metro e mezzo e l'impugnatura ecco di questo fono tende in pratica, ecco è possibile anche metterlo all'interno di una borsa, magari non so, ecco per essere più comodo, per avere la comodità di portarlo con sé, magari metterlo all'interno di una borsetta, avvolgere il cavo intorno, magari metterlo all'interno ecco dalla borsa quando magari si parte per un viaggio oppure si va in palestra. Bene, io con questo ho concluso il video, ringrazio tutti per avermi prestato ascolto e vi do appuntamento alla prossima.